Non è mancata la commozione a Santofemia d'Aspromonte in occasione della cerimonia di commemorazione del maresciallo dei carabinieri Pasquale Azzolina, ucciso il 17 giugno 1996 nel paese aspromontano. Azzolina aveva sorpreso due malviventi in procinto di commettere un furto e uno dei due, identificato dal maresciallo, ha esploso da distanza ravvicinata dei colpi di pistola che hanno ucciso il carabiniere. E proprio in località Ponte Crasta, luogo della tragedia, è stata deposta una corona di alloro. A seguire la Santa Messa presso la chiesa di Sant'Ambrogio, celebrata dal parroco Don Marco Larosa alla presenza dei familiari del maresciallo e di Federico Caffiero Derao, procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Presenti inoltre il generale Luigi Robusto, comandante del Comando Interregionale Carabinieri, il generale Vincenzo Paticchio, comandante della Legione Carabinieri della Calabria, il colonnello Giancarlo Scafuri, comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, il sindaco di Santo Feme Domenico Creazzo, l'amministrazione comunale e il vice sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, Riccardo Mauro. In data 9 maggio 1997 al maresciallo Pasquale Azzolina gli è stata conferita la medaglia al valor militare e alla memoria con la seguente motivazione. Comandante di stazione, distaccata in territorio caratterizzato da alto indice di criminalità, veniva fatto segno unitamente a militare dipendente ad improvvisa e violenta azione di fuoco da parte di due malviventi sorpresi in flagranza di furto. Benché colpito in più parti del corpo, con elevato coraggio e grande determinazione, tentava di reagire con l'arma in dotazione, ma colpito ancora una volta in parti vitali, si accasciava a esamine al suolo. Fulgito esempio di alto servizio del dovere ed elevate virtù militare spinte fino all'estremo sacrificio.